Hello there! Con la pubblicazione del quinto e del sesto episodio di The Bad Batch, anche questa settimana è giunto il momento di tornare a discutere della serie, dunque iniziamo subito a parlare degli ultimi passi percorsi nella via intrapresa dalla Clone Force 99. Il quinto episodio, intitolato Rampage, tiene fede al tradizionale inizio che ha contraddistinto la serie ormai già per quattro episodi consecutivi, mostrandoci i Bad Batch in viaggio a bordo dell'Evoke Marauder. Qui Omega riceve il suo Comlink, una versione riadattata di quello che un tempo era appartenuto a Crosshair, e si diverte a giocarci mentre il gruppo si dirige su Ord Mantle, dove sperano di trovare Seed, un vecchio alleato degli Jedi che a quanto pare potrebbe aiutarli a rintracciare Fennec Shand e i suoi committenti. Non appena arrivano sul luogo, inizio a pensare che chiaramente la Lucasfilm Animation non volesse buttare niente del materiale rimasto inutilizzato con la cancellazione di molti archi di Clone Wars. Questa, infatti, dopo Pantora. È la seconda volta che vediamo un pianeta originariamente disegnato per la prima serie del team, era pieno di concept art pronti all'uso e modelli ancora grezzi ma già esistenti. Pantora è apparsa solo marginalmente in The Clone Wars, ma sarebbe dovuto apparire molto più ampiamente nell'arco narrativo dedicato ad Asaj Ventress e Quillan Vos, riadattato poi nel libro L'Apprendista del Lato Oscuro, mentre Ord Mantle avrebbe visto il suo debutto negli episodi dedicati alla lotta sostenuta da Maul e dal collettivo Ombra contro i separatisti, eventi riadattati poi nel fumetto Figlio di Datomir. Arrivati a questo punto non mi stupirei se per fare buon uso delle numerose basi già pronte la serie portasse la Clone Force 99 su Tapao, palcoscenico dell'arco narrativo dedicato alla crisi su Tapao. Tornando all'episodio comunque, quando la Bad Batch arriva al locale, trovano subito Sid, una trandosciana, ma si lasciano depistare rapidamente dalla donna stessa che nasconde la sua identità, ed è Omega a svelarla per la squadra. In una stanza adornata da molteplici torfei di caccia e pezzi da collezione tra cui numerose armi e delmi di vario genere, Sid lascia che loro chiariscano il motivo della visita e pur non avendo le informazioni che cercano, o semplicemente non volendole offrire gratuitamente, stipula un accordo con loro. Se salveranno per lei una bambina di nome Muci da un gruppo di schiavisti zaigeriani, allora lei farà il possibile per dare loro risposte, insieme al 30% del compenso offerto per il salvataggio da chi lo ha richiesto. Il gruppo accetta senza neanche provare a contrattare e si prepara a partire. È curioso pensare che gli Jedi possano aver lavorato con un individuo losco come Sid, ma alcuni membri dell'ordine, come Quinlan Vos, svolgevano diversamente dagli altri lavori sotto copertura nel sottomondo criminale, persino durante le guerre dei Cloni. La Clone Force 99, però, non è abituata a simili situazioni, si sono già dimostrate ingenui in molte occasioni e dovranno crescere rapidamente per evitare di essere pugnalati alle spalle. Durante il loro percorso per l'area della missione, comunque, vediamo Racker nuovamente tormentato dal mal di testa, come a ricordarci del problema legato al chip, e assistiamo poi a un breve scambio sullo schiavismo e sul significato dello stesso. Echo, spiegando la situazione Omega, definisce gli schiavi sottomessi e trattati come proprietà, ed è tragicamente ironico detto dai Cloni che, purtroppo, sono nati schiavi. Loro, nello specifico, stanno però lottando da soli per lasciarsi alle spalle quel passato, e qui lotteranno anche per Muci, ma non prima di finire nei guai. Dopo aver lasciato Omega alla nave dove passa il tempo insieme a Gon, che ridipengendo la sua bambola Bad Batcher per avvicinarne il look a quello dei Bad Batch, Hunter e i suoi vengono infatti catturati in poco tempo, poiché rintracciati da un Brizak e dai suoi padroni zaigeriani, in una sequenza accompagnata da una colonna sonora molto particolare, poiché scandita da toni estremamente più classici e meno sintetici rispetto al solito, scelta che ho decisamente apprezzato. Mentre loro vengono portati insieme alle altre vittime degli schiavisti, al suo locale Seed viene sollecitata da quello che riconosciamo facilmente come Bib Fortuna, dunque il lavoro accettato dai Cloni è stato commissionato da niente meno che Jabba desilicic Ture. Al contempo, sull'Evok Marauder Omega è costretta a fuggire quando due zaigeriani raggiungono la nave per ispezionarla, dopo aver rintracciato i suoi amici scoprendo che sono stati catturati e lei a doverli mettere in salvo. Raggiungendo l'area, comunica con Hunter utilizzando i gesti come i suoi compagni e mentre lo schiavista Reni inizia a esaminare quelli che vede come i propri prodotti, Omega si fa strada tra le rovine della zona. Reni, con un monologo atto a intimidire gli schiavi, espone a noi uno dei tanti cambiamenti di cui la galassia è vittima per via dell'ascesa dell'Impero. Infatti così come molte nuove regole e leggi nascono, altre vengono dimenticate e lo schiavismo, un tempo bandito dalla Repubblica ma comunque mai scomparso del tutto, ha spazio per tornare a fiorire approfittando della situazione. Lo zaigeriano parlando rimanda proprio alla caduta della struttura detentiva, un tempo situata su cadavo e distrutta dalla Repubblica durante le guerre dei Cloni. Ma purtroppo, sappiamo che negli anni successivi lo schiavismo riuscirà a farsi strada anche al di fuori dei luoghi da sempre legati alla tratta di persone gestita dal popolo di Zaigeria. L'orlo esterno è tradizionalmente un settore florido per feccia di ogni tipo e gli zaigeriani riusciranno a ristabilirsi anche su altri pianeti, come Un, dove ci vorranno circa 15 anni dagli eventi mostrati in questa serie prima che l'intervento della ribelle mandaloriana Sabine Renn possa fermare una volta per tutte il commercio gestito da Madal, liberando gli schiavi e distruggendo l'impero della donna. Qui e ora però, forse Omega e i Bad Batch potrebbero riuscire a fermare almeno Rhaeny e il suo gruppo di schiavisti, evitando altro dolore, proprio liberando una delle vittime, una Rancor, che scoprono essere la Muci che stavano cercando. Scoprire questo dato fa comprensibilmente sorgere una domanda, ovvero se Jabba ad aver richiesto questo recupero, Muci è la Rancor che vediamo in episodio 6? La risposta, per chi tra voi se lo fosse chiesto, è no. Il povero Rancor che Liu ucciderà nel palazzo di Jabba è un maschio e il suo nome è Patisa, dunque a meno che non abbiano scelto di sovrascrivere ciò che già sappiamo al riguardo, non sono lo stesso animale. Ciò non di meno, pensare che sarà Jabba a gestire Muci lascia ugualmente un velo di tristezza alla vista di questa potentissima cucciola di Rancor, poiché la vita al servizio del signore del crimine, Nefanda e Patisa potrebbe essere il successore della giovane creatura che vediamo qui. I Rancor, come ho discusso nel video dedicato all'alore e alla storia completa del pianeta Datomir, di cui sono nativi, vengono visti come esseri brutali perché la loro immagine è stata piegata da chi li ha catturati per intrattenimento e ostentazione, proprio come l'Hat, ma in realtà, nonostante siano animali forti e senza dubbio in grado di difendersi, usualmente sono pacifici, molto sociali e in parte senzienti. Una vita passata in una grotta grande a malapena quanto basta per contenerci sarebbe una tortura in grado di rendere aggressivo e famelico, ognuno di noi. In questo momento, comunque, Muci è libera e può dare sfogo alla sua forza, con cui sbaraglia facilmente gli Zygeriani, dando un grande aiuto ai membri liberati della Clone Force 99 e mentre Hunter si occupa di Reni, i prigionieri ora liberati vengono messi in salvo da Echo e Omega, che nel percorso raccoglie uno degli archi energia utilizzati dagli schiavisti ottenendo un secondo pezzo di occupaggiamento durante questo singolo episodio. Ora è pronta a comunicare e armata, e io non vedo l'ora di vederla imparare a utilizzare e sfruttare al meglio tutti questi nuovi mezzi. Muci, ancora scatenata, mette in fuga persino il Brezza, che ai Bad Batch non rimane che occuparsi di lei per portarla a destinazione, compito che ricade, ovviamente, su Wrecker, che la combatte amichevolmente fino a stremarla. Concludendo la missione, il gruppo la porta al locale di Sid, dove Bib, impaziente di rivedere la Rancor, era già arrivato per mettere fretta alla Trandoshana. Soddisfatto, il maggiordomo Twi'lek paga il dovuto e porta con sé Muci, dunque siamo costretti a salutarla, sapendo purtroppo che difficilmente avrà una vita felice. Sid, leggermente sorpresa dal loro successo, invita Hunter a raggiungerla nel suo ufficio e condivide con lui ciò che ha scoperto su Fennec, ovvero il suo nome, che noi già sapevamo, e qualche dato interessante anche al riguardo del suo incarico. Lei è nuova nel settore, pur avendo già mostrato grandi abilità, e la taglia che la spinge a dar la caccia a Omega non è stata resa disponibile dalla Gilda, e un incarico diretto. Una volta esposte queste informazioni, alludendo alla possibilità di offrire altri lavori, la donna consegna al leader della squadra la sua quota di crediti, ma prima di lasciarlo andare ci permette di scorgere il marcio che, ovviamente, troveranno sempre lavorando in questo settore. Minacciandolo indirettamente, chiarisce che sa bene quanto possano valere lui e i suoi compagni se qualcuno del calibro di Shand sta seguendo le loro tracce, ma afferma anche di saper custodire un segreto. Ed è così che si conclude l'episodio. Un episodio che mi ha dato l'impressione di averci offerto l'ultimo dei tasselli necessari per far proseguire la serie con più libertà, stabilendo che, proprio grazie al contatto con Seed, Hunter e i suoi potranno vagare per la galassia offrendoci diversi scorci in base ai lavori intrapresi e rispettando così le premesse della serie. Il sesto episodio, intitolato di Commissioned, prende il via mostrandoci Ord Mantle e probabilmente sarà questa la nuova tradizione ora che hanno stabilito un punto d'appoggio. Nel locale di Seed, Echo addestra Omega nell'utilizzo dell'arco energia, la bambina non è ancora molto abile, ma ci ha già dimostrato di saper imparare in fretta e il suo fratello le dà un consiglio prezioso molto vicino a quello che avrebbe offerto uno Jedi. Deve imparare a tagliare fuori le distrazioni. Il tempo per l'addestramento comunque finisce per ora, Seed dà un nuovo lavoro per loro, il recupero di un droide tattico da un impianto di smantellamento su Corellia. Anche se Hunter e i suoi non hanno ancora deciso con fermezza di lavorare per la Trandoshana, lei insiste dando per scontata la loro collaborazione. E dopo aver dato qualche suggerimento a Omega per aiutarla nell'utilizzo dell'arco mostrando al contempo la sua abilità, li lascia andare. A bordo dell'Evoke Marauder, per arrivare a Coronet City senza problemi, Tech si magnetizza un tetraedrico trasporto per container con i sistemi al minimo, la stessa tecnica utilizzata su suggerimento di Ondonaka dall'equipaggio della Ghost quasi due decadi più tardi per raggiungere l'OTAL in vista della sua liberazione. Arrivati a destinazione, i membri della Clone Force 99 si affrettano a raggiungere il sito di smantellamento, pur se con qualche difficoltà nel caso di Hurecker, che come avevamo già scoperto in Clone Wars durante la missione su Scacco Minor, soffre l'altezza. All'interno dell'impianto, la vista è davvero triste. Centinaia di droidi da battaglia vengono ammassati come rottami e fusi completamente, quando moltissimi sarebbero semplicemente in grado di riprogrammarli, permettendogli di vivere finalmente un'esistenza libera dal condizionamento separatista. Molti casi lo hanno dimostrato, come Butz, che ha combattuto per sua scelta al fianco di Rex e Obi-Wan Kenobi, o Roger, divenuto parte della famiglia Freemaker dopo il suo ritrovamento Sword Teleron. In questo caso, comunque, i Bad Batch sono in cerca di un singolo modello e non certo per fare amicizia, ma solo per le informazioni che contiene, obiettivo della loro missione. Mentre i soldati neutralizzano gli operai del luogo, Omega riesce a rintracciare le parti del droide tattico, ma prima che i suoi compagni possano raggiungerlo, qualcuno lo recupera. E non appena lei scatta con l'intento di intercettarlo, viene fermata da una grande sorpresa che non mi aspettavo assolutamente, Rafa Martez. E non è sola, ovviamente, è sua sorella Trace ad aver recuperato la testa del T1. Dopo la delusione sentita da moltissimi per l'arco narrativo che l'ha coinvolta nell'ultima stagione di Clone Wars, non credevole avere riviste, invece eccole qua. Come ho già detto in precedenza, sembra proprio che la Lucasfilm Animation non voglia gettare il lavoro fatto ed è molto probabile che rivedremo numerosi elementi dell'ultima stagione e delle storie mai completate, in qualche forma. Concentrandoci sul presente di questo episodio, comunque, la situazione degenera facilmente in seguito al loro debutto, poiché Rafa cerca di fermare Omega che, mancandola poi con un colpo dell'arco, danneggia la struttura mettendo tutti gli opera in allarme e portando all'intervento dei droidi poliziotti che costringono sia i cloni che le sorelle a combatterli. Omega nel frattempo non perde d'occhio la testa del droide tattico che continua a passare di mano, ma poco dopo averla presa, si incastra tra i resti dei droidi da battaglia su un rullo diretto alla fornace. Circostanza decisamente scomoda, ma nulla più preoccupante al momento, considerando che durante l'azione, Racker prende ancora una volta una testata e sembra iniziare a accedere al chip, ripetendo parte della nota frase legata a tale circostanza. I soldati eseguono gli ordini. Purse all'ultimo, Omega viene salvata da Hunter grazie all'aiuto di Trace, che vedendo la bambina in difficoltà torna sui suoi passi per salvarla da morte certa. Come ha imparato da Sokatano, quando trovi qualcuno che ha bisogno di aiuto, lo aiuti a ogni costo. Anche se la conseguenziale scelta di collaborare rende più facile affrontare la polizia, il numero degli avversari rimane soverchiante e Racker a terra. Sta lottando con tutto se stesso per resistere all'influenza del chip inibitore. Sentendo la voce di Crosshair suonare in testa, il clone continua a soffrire. Eppure aspettandoci l'arrivo di questo momento, soffriamo noi stessi nel vederlo in queste condizioni. In questo caso però, qualcosa riesce ancora a fermare il processo. Mentre su suggerimento di Trace, Tech usa uno spike per prendere il controllo del droide tattico e riattivare i B1 e i B2 così che possano difendere il gruppo, Omega chiede aiuto al suo mastodontico amico e sentire la voce della bambina. Almeno per ora è quanto basta per farlo rinsavire, mostrandoci ancora una volta il grande cuore di questo gigante, che lanciandosi all'assalto guadagna abbastanza tempo da permettere l'attivazione di ciò che rimane dei poveri droidi da battaglia semi smantellati nell'area, confusi dalla situazione e incaricati subito di attaccare le forze di sicurezza. Sfruttando il diversivo, la Clone Force 99 e le sorelle Martez fuggono ed è qui che arriva uno dei momenti più belli degli ultimi episodi per me e Yu, una rivelazione che aspettavamo sin dal finale di Clone Wars ed è giunta prima del previsto. Trace, infatti, comunica con l'astromecca al comando della Silver Angel chiamandolo R7, e se questo non fosse bastato a capire di chi si tratta e a chi non lo attendeva, dopo aver raggiunto la nave purtroppo perdendo la testa del T1 ma salvi anche grazie a Omega e la sua abilità in rapido aumento, vediamo con chiarezza che si tratta proprio di R7 A7, il droide che ha combattuto la guerra dei Cloni al fianco di Ahsoka dall'inizio alla fine. Come vi avevo suggerito nel video dedicato al finale di Clone Wars, vedendo i resti recuperati dalla Togruta e dal capitano Rex sulla luna ovela Tribunal si era schiantata, era solo questione di tempo prima di poterlo rivedere ed eccolo qui. Sano e in salvo insieme alle due alleate di Ahsoka, una presenza che oltre a rendermi felice implica un contatto tra loro e la Togruta dopo l'ascesa dell'Impero. Ma prima di parlare di questo, andrei avanti con gli eventi dell'episodio. Mentre R7 dirige la nave verso l'Evok Marauder, Omega afferma che il compratore di Sid non sarà felice dell'esito della missione, e qui nel doppiaggio italiano Rafa li accusa di aver rischiato senza nemmeno conoscere il mandante, ma non è assolutamente questo il punto. In lingua originale infatti ciò che sottolinea è che stavano per consegnare le informazioni potenzialmente pericolose contenute nella memoria del droide senza sapere neanche a chi le avrebbero cedute e per cosa sarebbero state usate. È questo che accende il successivo dialogo sull'uso che invece ne avrebbero fatto le sorelle, intenzionate a consegnarle a un contatto già deciso a combattere l'Impero e aiutare il popolo. Giunti alla loro nave, i Bad Batch si preparano a partire, spiegano alle due dove possono trovarli in caso di necessità, e Hunter, dopo aver riflettuto sulla loro discussione, sceglie di cedere loro i dati recuperati da Tech attraverso lo Spike, perché possano usarli a fin di bene, stupendo Rafa e affermando che quando erano soldati tutto era più chiaro. In effetti è così. La Repubblica era l'unica via, veniva imposta come ragione assoluta, ma ora sono loro a dover scegliere come agire pensando con la propria testa, e come sottolinea la donna, prima o poi tutti scelgono da che parte stare. I due team infine si salutano e mentre l'Evok Marauders, inoltre nello spazio tornando Sword Mantle, a noi viene offerto uno scorcio speciale. Rafa chiede a R7 di aprire la comunicazione con il loro contatto, che nel doppiaggio originale viene chiaramente indicato come un maschio, e dopo aver esposto il successo della missione, pensando possa essere di interesse condivide l'esperienza avuta con i Bad Batch, dicendo che sa dove trovarli. L'episodio lascia un velo di mistero sull'identità del contatto, ma considerando che le sorelle Martez sono insieme a R7, che è stato salvato da Ahsoka e Rex, e trattano dati utili a combattere l'impero, recuperati dalla testa di un droide tattico di serie T, come quella che in Rebels vedremo consegnata allo scodrone Phoenix perché rintraccino Rex, Wolf e Gregor, allora a meno che non vogliono sorprenderci con qualcosa di assolutamente inaspettato, riesco a puntare il dito contro pochi dei più noti, il senatore Bail Organa, o eventualmente proprio il capitano Rex. Anche se faccio fatica a immaginarlo come contatto intento a lottare l'impero, visto che fra qualche anno si godrà per un po' la pensione su Silos. Per ora possiamo solo mettere in pausa l'entusiasmo però, perché non abbiamo modo di sentire la sua voce, neanche modificata. Dunque, consci di dover attendere per nuove rivelazioni, abbiamo assistito alla conclusione dell'episodio, e ci prepariamo ai prossimi passi nella via della Clone Force 99. Questi erano il quinto e il sesto episodio di The Bad Batch, sempre più incalzanti e interessanti, ma anche in grado di farci ridere a tratti. Solo che non mi soffermo su questo aspetto nel narrare, perché difficilmente riuscirò a riproporlo adeguatamente in un contenuto di questo tipo. Dopo questi ultimi due episodi, comunque, direi che abbiamo quasi un nuovo punto di partenza per la stagione. Le fondamenta infatti sono ormai tutte stabilite, mancava il ritrovo fisso per dare il via ai prossimi viaggi, ora abbiamo anche quello grazie a Sid e al suo locale Sword Mantle. Ed è un bene che il team riesca a far convivere così bene elementi nuovi ed elementi noti. Proprio basandosi su questo principio, hanno voluto più volte dirottare le nostre aspettative e previsioni durante questi episodi, ed è stato divertente. Non ho mai creduto, per esempio, che Muci potesse essere la giovane fallì in cui il team continuava a rivolgersi con quel nome, ma non credo che la scelta della razza fosse casuale, poiché scoprendo che Jabber era il committente, potevamo crederci che si trattasse di un rapimento per interessi personali, più che di un vero e proprio salvataggio, visto che spesso la razza in questione è fortemente legata al sindacato criminale del Sole Nero, rivale del cartello degli Hutt. Possiamo fare un discorso simile anche per Corellia, che essendo il pianeta natale di Han Solo, rendeva semplice pensare che avremmo potuto vederlo sotto agli abiti da operaio, magari insieme a Kira, dopo tutto gli eventi esposti nelle sequenze iniziali di Solo sono ambientati appena 5 anni dopo rispetto a The Bad Batch, e sono abbastanza sicuro lavorassero già insieme. Oltretutto la Lucasfilm spesso sembra divertirsi a far riemergere determinati personaggi in diverse opere e media nello stesso periodo, e Kira è appena tornata nella storia galattica emergendo nel fumetto War of the Bounty Hunters. Spero di non avervi annoiati esponendo questi intrecci possibili, ma tutto ciò era solo per fare un plauso alla scrittura, sempre chiaramente affidata a mani esperte che sanno come giocare con la lore e la storia della galassia lontana lontana, per tenerci sulle spine e sempre attenti agli eventi narrati in questa serie dedicata ai Bad Batch. Augurandomi che il contenuto vi sia piaciuto, io vi ringrazio per avermi seguito, vi do appuntamento al prossimo video, e come sempre, che la forza sia con voi!